Un bilancio impressionante, 71 le vittime e 11.000 gli infortuni denunciati sul lavoro in campagna da gennaio a luglio. L'aumento in un anno va dal 23 al 31%. I dati sono stati presentati da HSE Symposium nella sede dell'INAIL Campania, in vista della due giorni a ottobre al nuovo policlinico, per la settimana europea per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro. L'iniziativa è organizzata dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Università Federico II e dall'Associazione Europea per la Prevenzione con il supporto di INAIL Campania, Fondo Lavoro ed Ebilav. Controllo e rispetto delle regole, ma anche formazione e informazione per fermare l'escalation di vittime sul lavoro e per tutelare la salute dei lavoratori e dei cittadini, nonché l'ambiente. Queste le azioni da studiare e da mettere in campo in un percorso sinergico con più enti e soggetti, come spiega il direttore regionale vicario, INAIL Campania, Adele Pomponio. Gli ultimi episodi di cronaca ci insegnano proprio questo, cioè parlare e continuare a parlare di salute e sicurezza per i lavoratori e rivolgendoci alle pratee più vaste. Per questo le sinergie con tutti i componenti, corpi intermedie, organizzazioni, sono determinanti per diffondere questo messaggio. A lavoro su questi obiettivi c'è la Commissione Scientifica di HSE Symposium, presieduta da Maria Triassico, ricercatori e docenti da 22 Atenei italiani e altri soggetti, insediata da una settimana per un confronto aperto. Alla sua terza edizione prevede, tra l'altro, borse di studio per giovani ricercatori, dice il presidente Ebilav Luigi Doriano. Premieremo i lavori più innovativi e sia Ebilav che Fondolavoro hanno messo a disposizione delle borse di studio. Tra i relatori intervenuti nella sede INAIL il direttore di Fondolavoro Carlo Parrinello, il presidente dell'Associazione Europea per la Prevenzione Vincenzo Fuccillo e il vicepresidente di HSE Symposium, Umberto Carbone. Dalla segnalazione deve partire una azione coordinata da più parti. E questo nostro simposio e questa larga partecipazione di ricercatori italiani che hanno dimostrato di essere interessati profondamente a questo tema, presentandoci delle novità, delle loro esperienze nuove, delle loro prospettive di azione in questo campo, ci ha chiaramente dato molto convincimento che siamo al terzo anno di questo simposio, ma è una strada molto giusta per venire a raggiungimento dei traguardi.